La ripresa che vediamo sui giornali, indicatori che parlano di una ripresa sia di erogazione di mutui che di numero di compravendite, è arrivata anche alle nostre parti sicuramente negli ultimi mesi del 2014, è certamente confermata in questi primi due mesi del 2015. Fra l'altro io sono anche agente immobiliare, ho le mie agenzie e quindi riesco anche a monitorare questa cosa. Il progetto che aveva questo gruppo di diventare veramente il primo full provider immobiliare italiano è concreto perché abbiamo sentito e visto quali sono i progetti, sono tutti progetti concreti, reali, già disponibili per la rete, per tutti, quindi non è fumo e si manda negli occhi alle persone solo per fare l'affiliare. Perché un'azienda, una società in mano al gruppo Mercecaglia credo sia sinonimo di garanzia al punto di vista della solidità e quello abbiamo tentato di trasmettere noi agli affiliati che chiaramente stando nella mia area, a mille chilometri di distanza da dove accadono le cose, da dove si decidono le cose, è stato difficile magari far percepire anche agli affiliati di Catanzaro, di Villa San Giovanni o di quelle zone, esatto, che sta sostanzialmente tenendo le redini ferme in un momento particolarmente complito.